Buongiorno e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla segnastampe a tutti i primissimi aggiornamenti dalla Basilicata, tanti come sempre gli argomenti che andremo a trattare nella nostra mezz'ora insieme anche in questo mercoledì 11 settembre 2024, ma questa mattina partiamo dalla crisi idrica, cominceranno infatti nella giornata di domani le interruzioni dell'erogazione dell'acqua secondo il piano stabilito da Acquedotto Lucano nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra, compreso il capoluogo Potenza, una scelta necessaria per consentire il ripristino dei livelli della risorsa nei serbatoi. Alla crisi idrica è stato dedicato anche il progetto Acqua Unica Costante Trapassato, presente e futuro ideato dagli studenti dell'Unibas aderenti all'Associazione Iuni. Facciamo il punto nel servizio di Celestino Benedetto. Gli appelli ad un uso responsabile dell'acqua lanciati questa estate per far fronte all'emergenza idrica non hanno sortito l'effetto sperato, nonostante i livelli degli invasi lucani, già a partire dal mese di giugno, avevano fatto presagire una fase acuta della crisi, quella con la quale ci si trova alle prese oggi. Ci hanno pensato gli studenti dell'Università di Basilicata a sensibilizzare ad un utilizzo consapevole della risorsa, cruciale nell'attuale contesto di cambiamento climatico globale. A potenza il primo appuntamento del ricco programma promosso nell'ambito del progetto Acqua Unica Costante Trapassato, presente e futuro. L'idea è stata sviluppata dagli studenti Unibas aderenti all'Associazione Iuni che hanno aderito al bando pubblicato dall'Ateneo Lucano. Ci teniamo appunto ad affrontare questo tema perché pensiamo che molto spesso è un bene che viene estremamente sottovalutato, in quanto per noi è un bene che possiamo trovare tutti i giorni, mentre per molte popolazioni dal mondo così non è. Al seminario divulgativo seguiranno azioni pratiche sul campo nell'ambito di un percorso di condivisione delle criticità, a cominciare dalla scarsità dell'acqua nei bacini della regione. Il progetto prevede interventi concreti sul territorio grazie alla collaborazione attiva di partner come il Comune di Potenza, Legambiente e Acque e Minerali d'Italia, Monticchio, Gaudianello, immancabile il sostegno di docenti e ricercatori Unibas. I cambiamenti climatici sono sicuramente una componente non trascurabile perché come abbiamo avuto modo di vedere sulla nostra pelle in questi anni è cambiato il regime delle precipitazioni e la disponibilità dell'acqua, però momenti di siccità ne abbiamo anche avuti nel passato negli anni precedenti. Il tema fondamentale è che oggi non abbiamo più una capacità di stoccaggio, cioè di accumulo della risorsa idrica per finalità primarie che sono evidentemente l'idro potabile e poi a seguire l'agricoltura industriale come ce le avevamo una volta. Per l'appunto la riduzione di capacità degli invasi segna il passo sul fatto che ormai c'è meno acqua disponibile a fronte o per fronteggiare condizioni di crisi di siccità o di crisi climatiche. La componente climatica comunque è un fattore oggettivo con il quale ci dobbiamo confrontare. In primo piano sull'edizione odierna della Nuova del Sud i temi della scuola con l'ormai riapertura che avverrà tra domani e lunedì a seconda della scelta degli istituti si ritorna tra i banchi con 2000 studenti in meno. Al via da domani il rientro nelle aule per 67.462 ragazzi ne mancano all'appello 1826 rispetto a 12 mesi fa e con la riapertura anticipata pendolari a Potenza senza autobus con la rabbia dei genitori è una storia che ormai si ripete. Potenza piange padre vitale esempio di fede e dedizione questa mattina alle 11 presso la chiesa di Santa Maria del Sepolcro si svolgeranno i funerali. Il punto di vista di Nino Grasso dedicato proprio alla crisi idrica le chiacchiere di Acquedotto Lucano ed Egrib date da bere ai lucani. Nel taglio alto la vertenza Stellantis è il momento di dare risposto. È oggi nuovo confronto in regione con i metalmeccanici. La Wilm chiede l'esonero dell'addizionale la riduzione dei costi energetici. A titolo la bonifica infinita per la ex liquichimica un altro milione di euro per la messa in sicurezza assicurato dal ministero dopo la richiesta della regione basilicata. La cronaca il video shock dal Venezuela tra un anno torno e vi sparo è diventato virale a Venosa negli ultimi giorni. Un video su whatsapp fatto girare da un cittadino di Venosa residente appunto nel paese sudamericano che mostrando una pistola e anche dei proiettili minaccia i suoi familiari per questioni legate all'eredità. Poi ne parleremo più dettagliatamente vedendo la pagina dedicata all'argomento. Nel taglio basso potenza città dei giovani raccontata a Parma e Firenze. La pagina sportiva con il calcio di serie C in casa potenza le parole di Rosafio l'ultimo arrivato dal mercato estivo. Non vedo l'ora di tornare in campo in casa Picerno invece le parole del DG greco. Abbiamo voglia di divertirci. Melandrini che nelle prime giornate di campionato hanno raccolto sette punti. Ci spostiamo alle pagine interne della Nuova del Sud a pagina tre con l'approfondimento legato alla notizia di apertura. Da domani la prima campanella suonerà per quasi 2000 alunni in meno. Sono 67.462 i ragazzi che si apprestano di iniziare le lezioni. All'appello rispetto all'anno scorso mancano 1826 alunni. Molti istituti hanno deciso di anticipare il rientro previsto lunedì dal calendario regionale ma per tre giorni non ci saranno bus di linea. Disaggi per i pendolari, la rabbia dei genitori non è la prima volta che accade. Ci spostiamo a pagina due per il punto di vista di Nino Grasso che ci porta a parlare nuovamente della crisi idrica nel Potentino. Le chiacchiere di acquedotto Lucano ed Egrib date da bere ai Lucani al posto della risorsa idrica razionata. Andiamo a leggere i primissimi passaggi. Per quanto questa volta abbiamo tentato di indorare la pirola convocando nei giorni scorsi a potenza i 29 sindaci dello schema Basento Camastra coinvolti a turno nell'operazione di razionamento dell'acqua potabile. Alfonso Metello Francesco Andretta si appresta a concludere nel peggiore dei modi il primo e speriamo unico triennio alla guida di acquedotto Lucano. Trovate tutti i dettagli a pagina due della Nuova del Sud con il consueto punto di vista di Nino Grasso. Noi ora invece ci occupiamo di salute anche in Basilicata. Sono numerose le iniziative promosse nell'ambito della settimana dell'Alzheimer all'ospedale San Carlo di Potenza e al Madonna delle grazie di Mater organizzati screening gratuiti finalizzati alla diagnosi precoce della malattia fondamentale per contrastare le conseguenze più gravi come ci spiega Michelangelo Russo. Il sintomo a cui bisogna prestare attenzione è solitamente la perdita della memoria da prima in forma leggera poi via via più marcata. Alla perdita di memoria si associano altri disturbi come la difficoltà nell'esecuzione delle normali attività quotidiane, la perdita dell'orientamento e disturbi del sonno. L'Alzheimer è la causa più comune di demenza nella popolazione anziana dei paesi sviluppati. Attualmente si stima ne sia colpita circa il 5% degli over 65. Come per altre patologie la diagnosi precoce può aiutare a tenere sotto controllo la malattia. Settembre è il mese dedicato all'Alzheimer e anche in Basilicata sono numerose le iniziative messe in campo. Screening gratuiti per gli over 55 si effettueranno al San Carlo di Potenza e al Madonna delle Grazie di Matera. Le visite presso il centro per i disturbi cognitivi e le demenze dell'azienda ospedaliere del capoluogo di regione si svolgeranno il 16 e il 30 settembre dalle 8 e 30 alle 13. Sabato 21 settembre in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer lo screening si terrà nei locali situati nel piazzale della Torre Guevara sempre dalle 8 e 30 alle 13. Previa prenotazione ai numeri 0971612674 e 0971613127 attivi dalle 8 e 30 alle 13. Lo screening neuropsicologico promosso dall'ASM sarà invece effettuato al reparto di neurologia centro disturbi cognitivi e demenze del nosocomio materano il 20 e il 27 settembre dalle 9 alle 13. Per le prenotazioni che si chiuderanno il 16 settembre è possibile contattare il numero 08352012129. Con l'adesione al fondo Alzheimer la regione Basilicata ha dato vita ad una serie di attività progettuali orientate al perseguimento degli obiettivi del piano nazionale come il potenziamento dell'equip di neurologi e geriatri nei centri e l'introduzione della figura del neuropsicologo decisiva per l'implementazione della diagnosi precoce che permette di intervenire tempestivamente attraverso strategie che rallentano la progressione della malattia e sono di supporto alle famiglie nella gestione. La pagina 5 della nuova spazio alla cronaca mostra una pistola e quattro proiettili e minaccia i familiari tra un anno torno a Venosa e Vi Sparo. Il video diventato virale su WhatsApp negli ultimi giorni nella città di Orazio è stato inviato dal Venezuela da Valerio Antenori, candidato sindaco nella città d'Orazio nel 2019, si era piazzato in quarta posizione su cinque candidati con poco meno di mille preferenze. Dopo essere stato eletto in consiglio comunale si era dimesso per far ritorno nel paese sudamericano al centro di queste minacce vecchie questioni familiari. Vedremo quale sarà lo sviluppo di questa vicenda dopo questo video che è diventato letteralmente virale sulle chat WhatsApp dei residenti nella città d'Orazio. Cambiamo pagina, andiamo alla vertenza Stellantis. Bardi e Siga risposte da Roma e sostenga le aziende di Melfi. Oggi in regione il nuovo confronto sul futuro del comparto auto lucano. La Wilma attende di conoscere il piano per la riduzione dei costi energetici, nell'area industriale, le parole del segretario regionale Lomio e sull'esonero dell'addizionale regna ancora il silenzio. Rassegna stampa che prosegue con pagina 6 della Nuova del Sud. Siamo ai temi ambientali, parliamo della ex liquichimica di Tito, bonifica infinita, un altro milione dal Ministero per la messa in sicurezza. La Regione ha chiesto al Ministero anche 50 mila Euro al mese per la gestione del sito e 90 mila Euro all'anno per la manutenzione. Gli interventi sulle acque di falda andranno avanti fino al prossimo 31 dicembre. A delibere della Giunta regionale segna l'inizio di una nuova tappa della lunghissima vicenda che riguarda l'impianto della zona industriale di Tito. Ci spostiamo ora a pagina 9 per parlare di transizione energetica, bando PNRR sull'agrivoltaico, 643 richieste dagli operatori, gran parte sono del Sud. La CIA assicurare la più ampia e razionale produzione di energia solare, ridurre in tal modo la bolletta energetica per le aziende garantendo il minore consumo di suolo agricolo. Sarebbe una svolta importante per le aziende agricole della Basilicata che stanno soffrendo le conseguenze della siccità, della crisi idrica e anche dell'emergenza cinghiali. Noi ora invece passiamo alla pagina degli eventi. Natura protagonista del Ninfea Festival della rigenerazione che per due settimane ha animato le rive del Lago Grande di Monticchio. Transizione energetica e crisi climatica, i temi discussi con ospiti d'eccezione. Il servizio è di Mara Risola. Sei giorni di eventi che hanno combinato l'approfondimento divulgativo con la cultura e l'arte, attirando migliaia di visitatori e coinvolgendo il pubblico in un'esperienza immersiva nella natura, tra la spiaggia delle Ninfea e la temporanea Green Arena sulle rive del Lago Grande di Monticchio. Organizzato dal labirinto visivo, uniriche archeoclub del Vulture in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Potenza e la Compagnia Teatrale Petra. Il Ninfea Festival della rigenerazione ha intrecciato momenti di spettacolo ad altri di riflessione sul tema dello sviluppo sostenibile a partire dalla crisi climatica. Il festival ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo internazionale come il geologo e divulgatore scientifico Mario Tossi, che ha tenuto un tolco sul cambiamento climatico. Contrastare questo negazionismo climatico o ambientale in generale è complicato perché fa leva sulle paure più profonde, quindi è più facile dire che il nemico è l'auto elettrica, il nemico sarà la crisi ambientale semmai, poi possiamo vedere come cercare di contrastarla, oppure me la piglio con la farina di grilli o con la cotoletta coltivata, ma quelli non sono i nemici, quelli che sono dei modi per risolverli. Quello comunque è necessario, del resto la transizione ecologica non è che la puoi evitare, o sei pronto o ti travolge. Palco anche il matematico e saggista Pier Giorgio Di Freddi, il giornalista Emilio Casalini, l'urbanista Maurizio Carta, lo scrittore Tiziano Fratus e il linguista Trifone Gargano, con una lezione spettacolo su Dante e la natura nella Divina Commedia, paragonata alla visione distorta che abbiamo oggi dell'ambiente che ci circonda. Pagina 12 della Nuova, le notizie da Potenza Città, Potenza Piange, Padre Vitale, esempio di fede e dedizione che la città non dimenticherà. Padre Antonio Vitale d'Artizio si è spento lunedì sera all'età di 102 anni, i funerali si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro. Ci spostiamo a pagina 15 con le notizie dal materano. Si parla in particolar modo di viabilità con la statale 407 Basentana, cantieri necessari ma senza ignorare le istanze degli imprenditori. Ieri un incontro con i sindaci della zona da parte dell'assessore regionale, le infrastrutture Pasquale Pepe che rassicura l'inizio dei lavori e previsto per il mese di maggio del prossimo anno del 2025 e si avvicina anche il mese di ottobre che come tradizione a Melfi riguarderà in particolar modo la Castagna. La Proloco Cittadini è a lavoro con l'amministrazione comunale per l'edizione 2024 della Sagra della Varola. Vediamo quali saranno le novità di quest'anno nel servizio di Vittorio Laviano. Sono diverse le novità della Sagra della Varola 2024 organizzata dalla Proloco di Melfi Federico II che col suo nuovo presidente ha già più volte incontrato in sala giunta l'amministrazione comunale. Abbiamo già iniziato da fine luglio ad organizzare la manifestazione che quest'anno per la prima volta durerà tre giorni quindi 18, 19 e 20 ottobre. Quindi ci vedrà impegnati in un lavoro più grande anche perché quest'anno ci saranno delle novità importanti anche a livello di percorso. Abbiamo aggiunto delle nuove vie sempre nel centro storico ed aumentato gli stand che saranno messi a disposizione dei vari operatori. Quest'anno sarà un po' più regolamentata anche per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di bevande o di cibi. Dunque una giornata in più di Sagra che partirà venerdì 18 ottobre e non più il sabato. Partiremo dalle 18 con la varolata a Piazza Umberto. Alle 21 e 30 la sera ci sarà un concerto a Piazza Mancini. Naturalmente saranno aperti tutti gli stand già dalle 18 su tutto il percorso. Il giovane presidente della Proloco Buonacaro pur non essendo un castanicoltore non nasconde che quest'anno il clima non ha favorito la crescita ottimale della castagna del Vulture. Quest'anno purtroppo il tempo non ci aiuta. Le quantità e la qualità si prevede che non sarà proprio ottimale. Però già mercoledì avrò una riunione con le associazioni di castanicoltori della zona e quindi vedremo un po' di valutare bene i quantitativi, le pezzature che sono importantissime. L'amministrazione comunale di Melfi è sempre più parte integrante nell'organizzazione della Sagra della Varola. Abbiamo già iniziato con dei tavoli tecnici di incontro e di confronto soprattutto proprio per un'organizzazione che sia appunto concentrata su quelle che sono le giornate dedicate all'evento. Stiamo già lavorando a livello organizzativo anche come coinvolgimento di altri soggetti e non solo di operatori economici quindi proprio per far sì che ci sia anche un volto nuovo rispetto alle scorse edizioni. L'organizzazione di un evento che porterà in città oltre 30.000 persone in un solo weekend presuppone un lavoro costante e anticipato rispetto al 18 ottobre data di inizio della Sagra. Presuppone tanto impegno a livello soprattutto di organizzazione e soprattutto di gestione dell'evento che poi non si concentra solamente in quei tre giorni ma è tutto un lavoro che si fa appunto nelle settimane precedenti proprio per far sì che anche a livello semplicemente della viabilità e della logistica sia tutto in ordine proprio per il frusto di gente che comunque arriva ogni anno fortunatamente. Pagina 18 della nuova lo sport con il calcio di serie C in casa potenza con le parole di Rosafio l'esterno rosso blu è uno degli ultimi arrivati dal mercato estivo bene giocare subito ma con personalità e cattiveria queste le parole di Rosafio la piazza mi ha entusiasmato sono rimasto stupito dal Viviani e dalla solidità della società. In casa Picerno invece si registrano le dichiarazioni del DG Greco che dice continuiamo a sognare il direttore generale tra passato presente e futuro abbiamo alzato la qualità rispetto all'anno scorso possiamo toglierci tante soddisfazioni salviamoci in fretta poi sposteremo l'attenzione su altri obiettivi Tomei un grande allenatore gli abbiamo messo a disposizione una rosa competitiva che nelle prime tre giornate di campionato ha affruttato sette punti con il comando della classifica dopo due vittorie e il pareggio interno per 0 a 0 nell'ultimo turno contro la Casertana ci spostiamo ora invece alla prima pagina del quotidiano del sud edizione Basilicata in apertura la scuola va sempre peggio persi in un anno altri 1826 alunni la piaga dello spopolamento non diminuisce per fortuna il personale docenti con 273 assunzioni a tempo indeterminato a potenza la commozione per la scomparsa di padre vitale la politica a Matera i socialisti entrano in giunta Ruggieri prende il posto della Gaudiana Gaudiano l'analisi del circolo a scaletta dipede unibassi in crisi di identità senza una svolta rischia di scomparire a Nova Siri il sindaco furioso i licei spostati zitti zitti a Policoro la sanità ambulanze vecchie la FIALS chiede rinforzare il 118 e le emergenze la crisi idrica acqua razionata da domani le prime interruzioni chiudiamo con un altro antipatico primato per la Basilicata ultima in Italia per il disastroso livello della classe energetica dei suoi immobili lo studio riguarda abitazioni e altre costruzioni messe in vendita e noi ora come sempre prima di passare alla rassegna stampa nazionale andiamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che attenzione sarà nel complesso bella in gran parte d'Italia ma si avvicina una perturbazione dal nord Europa porterà già a fine giornata i primi acquazzoni al nord e tra giovedì e venerdì attraverserà tutta l'Italia quindi entriamo più nel dettaglio vediamo intanto a nuvolosità eccola qua questa perturbazione nuova che si avvicina al nostro paese il grosso arriverà verso sera quando appunto arriveranno anche le prime precipitazioni controlliamo dalla previsione delle piogge con questa banda questa striscia di precipitazioni che si avvicina al nord Italia e verso tardo pomeriggio sera prime acquazioni temporali sulla fascia alpina prealpina e nella zona dei laghi quindi in definitiva mercoledì sostanzialmente bello è in gran parte Italia quantomeno la partenza è buona da nord a sud temperatura è magari un po' frizzantina in inizio giornata al centro nord però poi verso sera ecco arrivare gli acquazzoni alpi prealpi zona laghi nella notte si estendono a buona parte della lombardia del triveneto e allevante ligure per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi aggiornato scaricate l'app di trebi meteo previsioni per oggi al mattino sulle coste cielo sereno o poco nuvoloso in montagna alternanza di sole e nubi sparse nel pomeriggio sulle coste alternanza di sole e nubi sparse in montagna cielo sereno o poco nuvoloso previsioni per domani al mattino sulle coste cielo sereno o poco nuvoloso in montagna alternanza di sole e nubi sparse nel pomeriggio sulle coste alternanza di nubi sparse in montagna alternanza di sole e nubi sparse in primo piano sui principali quotidiani nazionali troviamo la politica europea partiamo dal corriere della sera scontro sul ruolo di fitto i socialisti no ha deleghe forti per i conservatori meloni tratta passaggio delicato von der leyen rinvia l'annuncio della squadra schleine dice incarico di peso all'italia ma serve coerenza la cronaca con l'ultima scalata di sara e andrea i cadaveri dei due alpinisti recuperati sul monte bianco sono morti assieme a due coreani dopo essere rimasti intrappolati tra nebbia e gelo nel tardo pomeriggio di sabato la repubblica ursula scivola su meloni socialisti liberali e verdi contro la proposta italiana di nominare fitto vicepresidente esecutivo della commissione von der leyen costretta a rinviare la presentazione della squadra la mossa elettorale di schulz che blinda i confini tedeschi contro i migranti per quanto riguarda la politica il caso san giuliano giallo boccia a carta bianca sparita all'intervista sul ministro prima annunciata come ospite nella trasmissione di bianca berlinguer su rete 4 poi invece il clamoroso dietro front il messaggero commissari ue veti e rinvio von der leyen rimanda la presentazione della sua nuova squadra il nodi verdi e pse alla vicepresidenza esecutiva affitto il pd si divide del braccio di ferro sul green per quanto riguarda invece il caso sinner per quanto riguarda il doping il caso resta aperto lavada chiede altre verifiche i tempi si allungano chiesta altra documentazione c'è ancora una decina di giorni di tempo per l'eventuale ricorso contro il proscioglimento iniziale del numero uno del mondo reduce dal trionfo di new york agli us open come sempre sulla prima pagina del sole 24 ore troviamo in primo piano i temi economici questa mattina c'è un focus sul lavoro e la pubblica amministrazione 2 milioni a caccia di posti pubblici nei primi 8 mesi del 2024 13.274 bandi per 288.558 ingressi sede boom di candidati chiudiamo la rassegna stampa nazionale con la prima pagina della gazzetta dello sport in primo piano il calcio più inter per frattesi il centrocampista reduce da due ottime prove in nazionale in nation's league chiede spazio a inzaghi a suon di gol vuole nazionale pure nerazzurro fa ancora panchina tardelli dice a coraggio ora bisogna dargli fiducia c'è poi un'intervista esclusiva a maurizio sarri che preannuncia il suo ritorno in panchina dopo le dimissioni dalla lazio nella scorsa stagione il tecnico dice sono pronto per rientrare entro gennaio l'inter resta favorita a miro conte anche per le spese anche qui il caso positività di sinner lavada non decide se farà ricorso scoppia la polemica intanto si torna in campo per la coppa davis italia a bologna berrettini ci guida contro il brasile nella prima giornata della fase a gironi e così siamo giunti alla fine dell'appuntamento del mercoledì con prima notizia e lo spazio dedicato alla rassegna stampa prima di salutarvi come sempre vi ricordo il prossimo appuntamento informativo sulla nuova tv alle 13.50 con la prima edizione della nuova tg da parte mia per il momento è davvero tutto grazie come sempre per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di una serena giornata